ancora un caro saluto a tutte e a tutti noi siamo abituati a parlare anche in questa rubrica di industria 4.0 di gig economy quindi l'economia dei lavoretti di smart working vale a dire di lavoro agile poi quando passiamo dalle parole i fatti ci accorgiamo che la realtà è molto più dura prendiamo ad esempio il tema del lavoro agile nella scorsa legislatura io sono stato come presidente della commissione lavoro il relatore di questa proposta di legge lo smart working il lavoro agile è un lavoro che si può compiere a distanza vale a dire in un luogo che può essere la propria abitazione o in un luogo scelto dal lavoratore quali sono le caratteristiche sono quelle della flessibilità si può mescolare un giorno di lavoro agile con un giorno di lavoro nel proprio ufficio nel proprio posto di lavoro ha funzionato questa novità che comunque cataloga lo smart working come un lavoro dipendente a tutti gli effetti se guardiamo quello che è successo della legge 81 del 2017 appena 114 aziende lo hanno utilizzato quindi le richieste degli sgravi corrono il rischio di rimanere in parte sulla carta abbiamo destinato 55 milioni di euro però non verranno utilizzati quali sono le problematiche da parte dei lavoratori c'è un certo timore se utilizzo questa forma può darsi che questo come si dice allenti il mio vincolo con l'azienda rischio licenziamento da parte delle aziende c'è diciamo una resistenza alle novità e l'attuazione di queste nuove modalità quindi concludo se vogliamo avviarci verso una rivoluzione digitale che irromperà nella nostra vita quotidiana nella nostra vita di lavoro dobbiamo anche cambiare mentalità cambiare cultura cambiare l'organizzazione del lavoro delle imprese è una sfida per le parti sociali è una sfida per la politica